Nelle precedenti giornate la ronda delle guardie federiciane nelle ore in cui nei presi di Castel del Monte differenti rappresentanti istituzionali erano impegnati ad inaugurare la postazione di emergenza 118, questi erano di passaggio come sempre nei presi della pinita adiacente. Al passaggio sulla strada statale 170 i volontari hanno avvistato del fumo dalla contrada abbondanza alle ore 12 e 45 circa e arrivati sul posto hanno constatato la combustione di parte della vegetazione. Evidentemente qualcuno aveva messo a fuoco le erbacce per bonificare la siepe. I volontari hanno spento le fiamme con i flabelli scongiurando il rischio che l'incendio potesse avere delle degenerazioni considerando che più avanti si trovava un oliveto con il terreno a monocultura che avrebbe potuto incendiarsi. Il professor Martiradonna responsabile della associazione di volontari con altri volontari era diretto a Minervino Murge per un incontro con altri colleghi per discutere di eventuali aggiornamenti sul sistema di emergenza incendio e in special modo su invito della prefettura per mettere in sicurezza la pinita del Castel del Monte. Nel dibattito che è seguito si evidenzia che la stessa pinita viene messa in sicurezza dall'associazione di volontari naturalista federiciana di protezione civile dalle ore 8 e 30 sino alle ore 12 l'ora in cui arrivano gli operai dell'ARIF e poi dalle ore 18 e 30 sino alle 20 e 30. Momento molto delicato perché aumenta il rischio che i personaggi poco coscienti possano innescare incendi. Molti casi si sono già verificati con incendi nelle località di Grotta, San Marzano, Posta Milella, Abbondanza, Pontalfelli eccetera. Non ci sono soldi tranne quelli che ci stipola e affida la regione Fuglia per il servizio AIB e questi non sono mai tanti per il servizio che svolgiamo, afferma il professor Martiradonna. L'amore per l'ambiente e la tutela per il prossimo ci invogliano a fare qualcosa che altri farebbero solo se pagati, conclude il professor Martiradonna. Il responsabile delle guardie ambiente e vita CPA Nat Federiciane non ha esternato alcuna destinazione comunale di pertinenza e residenza, ma ha voluto precisare che essendo un corpo di polizia regionale la destinazione può essere per qualsiasi comune la stessa di residenza regionale. Tutto va verso la dispersione professionale della nuova formulazione dell'articolo 5 del decreto legge 78 a enti locali che non scongiura la frammentazione dei corpi e servizi di polizia provinciale destinando il personale ai vigili urbani attraverso ambigue e caotiche procedure di mobilità a seconda delle carenze di organico nelle polizie municipali, fa sapere il professor Martiradonna. Ma tempo addietro, quando si è chiesta la chiusura delle province, a nessuno è giunto per la testa il quesito sulla distribuzione dei funzionari di ordine pubblico? L'articolo 5 del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 78 del 19 giugno 2015, recante misure in materia di polizia provinciale, ha subito modifiche in sede di lavori di conversione. Quindi si parla solo della provincia amministrativa e non dei comuni. Tuttavia il problema di vigilanza è riportato sul numero mancante dei vigilanti e non sulle funzioni che non verrebbero svolte, perché queste prestazioni si svolgono sul numero ridotto del personale e se ci fossero state le GGV il problema di controllo territoriale risulterebbe inferiore.